di sesamo un cesto pasquale con fiori essiccati ovetti candele gialle e tulle per ornare la casa in occasione della pasqua 140 mila 150 165 167 si vediamo un po leggiamo 220 mila lire il prezzo giusto e vince l'ara ciao ma che meraviglia ma guardate questa ragazza da dove vi è io arrivo da ponte lambro in provincia di como ma fammi vedere queste treccine sono sono tuoi vero sono in parte mia e l'ultimo pezzo giunti ma che meraviglia ma è 13 ore di lavoro per farla mamma mia 13 ore consecutive o le hai fatte alle 11 di mattina a mezzanotte non avevo tempo di tornare poverina la ragazza che ringrazio la saluto intanto veramente questa ma ma non ti fanno male per apparire bisogna soffrire pistarino vieni qua no perché lui è un uomo hai capito no a queste due devono rimanere davanti qua no è molto eh no no effettivamente effettivamente non so quanto ci voglia di sofferenza però sono sicuro che in cambio dei capelli gerry scotti scoffirebbe ancora di più di lei ah sì 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 però deve fare un male non fa male no sopporti non io ho capito non voglio dire come se fai un tatuaggio è un dolore è da un parrocchiere tedesco no da africana africana certo è africana no poi magari man mano che crescono un pochettino il dolore si sentirà meno su questo è vabbè adesso sopporti cara infatti dite che non muove neanche la testa hai un hai un portamento regalo eh sono pesanti non sono ancora abituata eh già allora prima ti abiti prova a tirarli un po' su così ecco appoggiali sulle spalle come se fosse uno zaino ecco andiamo a giocare al tris un fax completo di tutte le funzioni essenziali più alcuni preziosismi tipo sistema automatico di correzione in caso di ricezione da linee disturbate allora questa x noi te la regaliamo posizionala tu dove meglio credi puoi fare il tris in modo orizzontale in modo diagonale non in verticale va bene partiamo un angelo in fibra vegetale allora sarà costerà 25 mila lire 27 mila 27 mila vediamo 27 ai 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 che peccato l'ultimo oggetto vediamo una coppia di porta uovo in legno realizzati a mano vediamo 38 mila 40 mila sono per il risparmio 38 mila 38 mila oh ti amano molto sei molto amata cara eh sicuramente non ho nessun dubbio questo è il tuo porta che te l'ha dato il tuo ragazzo il mio ragazzo è porta fortuna e in amore più che nel gioco è certo è chiaro insomma una bellissima figliola è molto amata vabbè comunque ci rimane la ruota della fortuna magari sarei fortunata lì ciao comodo di cuore grazie bene allora che è successo qui il bistarino che lascia in giro la tovagliocca ottimo 85 bene comodo ciao bene vai bocca al lupo eh vediamo se questo orsacchiotto fa il suo dovere eh 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 lo fa mamma mia se lo fa un milione per te e insomma 100 vediamo facciamo un po' il tipo per Maria anche beh come primo giro certo non lo fai ma lo puoi sempre fare come il secondo giro via 45 eh è passato 45 mi dispiace vabbè è un bellissimo televisore comunque che te l'ha regalato eh ciao in bocca al lupo per il tuo matrimonio e ci vediamo tra pochissimi minuti chiaramente se что a Grazie.